Prende palla Giunta, Giunta prepara questa gran conclusione! Un grandissimo gol per Giunta, primo gol nel professionismo proprio realizzato con la maglia della squadra, della sua città, del suo sogno. Dopo dieci anni di viaggi calcistici, giocare nel Messina, trova questo grande gol, si impossessa di questo pallone e poi lo scaglia di sinistro. Porta in vantaggio il Messina a mettere in rete. Inizio di secondo tempo, riparte meglio il Messina, entra in mausso ma è scafetta a mettere dentro Luciani! Anticipa lo Iacono e riporta il Messina in parità, due a due anche per Luciani, primo gol nel professionismo. Stato un po' sfortunato con qualche infortunio, si rifà con questo gol pesante in casa del Crotone, due a due. La gioia dei tifosi del Messina, scafetta, va via bene a Petriccione, manda dentro di destro e ancora il gol di Luciani. Tomminello, è entrato Firenze dalla panchina, tanti cambi, Firenze batte la punizione, palla che arriva sul secondo, palo Pulito al volo! 3 a 3, arriva dalla difesa il nuovo pareggio del Messina, 3 a 3, scivola poi saltando il cartellone pubblicitario Pulito. Secondo gol in carriera in Serie C, gol pesantissimo all'uscita, destro al volo, 3 a 3 il Messina. Grazie a tutti!